Si intitola L'Uomo della Carità, il film sulla vita del venerabile frate Francescano fra Giuseppe Michele Ghezzi, proiettato questa sera a Squinzano nel Leccese. I dettagli nel servizio. Sarà proiettato lunedì 20 settembre alle ore 19.30 in piazza Plebiscito a Squinzano il film biografico per la regia di Fabio Frisenda e Graziano Tramacere, L'Uomo della Carità, incentrata sulla figura e la vita del venerabile frate Francescano fra Giuseppe Michele Ghezzi. L'opera nasce con l'intento di ricordare i più grandi e far conoscere alle nuove generazioni la figura del religioso nato a Lecce il 19 agosto 1872 dall'avvocato Pasquale Ghezzi, duca di Carpignano, e da Carmela Carrozzini. Entrato a far parte dell'ordine dei frati minori aiutato dalla complicità della madre che però perse a 30 anni, prese il nome di Fra Giuseppe. Trascorse la sua vita da frate in diversi conventi, Lecce, Squinzano, Manduria, Martano, Francavilla Fontana, Soleto. Svolse con umiltà, pazienza e prudenza l'ufficio di questo ante raccogliendo offerte per le missioni, ma l'opera più importante compiuta da Fra Giuseppe è il quotidiano esercizio delle virtù cristiane e la testimonianza di costante fedeltà al Vangelo e alla sua consacrazione religiosa francescana. Fra Giuseppe si spegne la notte del 9 febbraio 1955 presso il convento Sant'Antonio di Lecce. Con decreto del 18 dicembre 2000, Giovanni Paolo II gli ha conferito il prestigioso titolo di venerabile.